E' una sorbile e c'era un pa' Ma non è dura la salita In gioco c'è la vita Tu non sai che ho preso mai Quella musica leggera Ciccina, moglie, vivi ma Ci puoi morire quando è sera Io di voce non ne avrei Ma non per gridare aiuto Nemmeno tu mi hai mai sentito Mi son tenuto il mio segreto Tu sorda e io te lo muto Gabriella Saracco si è svolta la cerimonia di laurea Per questi ragazzi del Polo Universitario Quindi tanta emozione Tanta anche commozione in alcuni momenti Qui a Piazza Fratti Quindi praticamente nel salotto della città Sì, oggi per me da Presidente del Consorzio Universitario È stato un momento bellissimo, importantissimo Perché questi ragazzi hanno ricevuto il loro diploma qui nel cuore della nostra città Hanno portato la loro allegria in questa piazza Abbiamo visto tanta commozione Sia nei ragazzi che nei loro genitori Nei loro parenti Mi auguro che questa diventi la prima esibizione Se vogliamo chiamarla così La prima consegna di diplomi di laurea in questa piazza E che ce ne siano sempre tante tante altre Perché i ragazzi frequentano l'Università per Civitavecchia E ritengo giusto e importante che ricevano nel luogo Che è il cuore pulsante della nostra città L'attestato della loro laurea Ricordiamo che questi ragazzi hanno avuto un percorso un po' particolare Perché c'era, come diceva il rettore, come dicevano i professori Che attendono anche da tre anni questa cerimonia Poi ho visto anche dei ragazzi stranieri Che fanno parte del polo universitario Sì, erano anni perché a causa del Covid Non si era mai più potuta fare una consegna in presenza I ragazzi stranieri fanno parte di questo grandissimo progetto di economia circolare Che prevede il doppio diploma E ce ne sono tanti oggi Ma ce ne saranno domani tantissimi E ce ne sono tanti oggi